La novità del Clean House 2017 è rappresentata dal Polar 033, una linea di prodotti per l'isolamento termico, dalle facciate all'isolamento controplaccaggio e sottotetto, composta da pannelli in EPS e neopor con aggiunta di materie prime rinnovate provenienti dal nostro ciclo produttivo. È una lastra attenta all'ambiente non soltanto per l'utilizzo di materia prima rinnovata ma anche per le elevate performance termiche e la lunga durata del materiale che quindi nel suo ciclo vita consente un notevole risparmio energetico.